e ora sei parliamo un pio di beatrice valli e marco fantini generalmente è raro che mi metta a scrivere un articolo la mattina ma lo sapete io sono una super fans di questa coppia insomma mi sono sempre piaciuti fin dall'inizio e non ho mai fatto mistero di essere dispiaciuta quando ho saputo che si sono lasciati per non dirvi quanto ci sono rimasta male quando circolavano quelle voci di notte infuocate fra beatrice e stefano del martino ma andando a girellare nelle pagine instagram di marco fantini e beatrice valli avevo sempre notato e ve l'ho sempre scritto tramite i miei articoli che fra di loro non era finito quelle frecciatine quei tentativi di riconciliazione sono sempre stati presenti insomma ve la faccio breve dai tanto la notizia è questa marco fantini e beatrice valli sono tornati finalmente insieme e lo comunica la stessa bea stamattina direttamente dalla sua pagina ufficiale